Via libera dell'ufficio di presidenza di Palazzo Campanella, il nuovo piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. L'organo di autogoverno del Consiglio regionale della Calabria, guidato dal presidente Nicola Irto, ha inoltre varato il piano della performance per il periodo 2018-2020. Due provvedimenti di notevole valore istituzionale che rafforzano la già alta tensione della presidenza verso questi temi. Siamo soddisfatti delle scelte assunte che vanno nella direzione indicata dai cittadini, afferma il presidente Irto. In questi anni abbiamo lavorato lacramente per rendere il palazzo più trasparente e aperto. I risultati, ricorda Irto, si sono visti e come i fatti testimoniano in maniera inequivocabile, oggi il Consiglio regionale appare una realtà solida ed efficiente. Un'altra rilevante novità consiste nella individuazione delle linee di coordinamento con il piano della performance dell'ente. In questo quadro saranno innovate le procedure per assicurare trasparenza e uniformità di comportamento dell'azione amministrativa. Verrà aggiornato il codice di comportamento dei dipendenti e saranno diffusi nuovi strumenti manageriali che privilegiano il lavoro di staff nelle attività di audzio e procedure. L'ufficio di presidenza ha nominato inoltre l'avvocato Dina Cristiani nell'incarico di responsabile anticorruzione dell'ente. Tra gli ulteriori obiettivi che il Consiglio regionale si è prefissato vi sono poi l'elaborazione di un report sui risultati dei piani di riqualificazione della spesa, l'incremento delle attività di supporto all'attuazione del piano di comunicazione, la valorizzazione delle minoranze linguistiche ed infine, conclude una nota, il potenziamento dell'immagine della Commissione regionale per le pari opportunità e il miglioramento della gestione informatizzata dei processi interni.